E' un esperimento, allora adesso è venerdì sera, noi dobbiamo andare a questa festa Quattro ragazze ci stanno aspettando, vengo anch'io, va bene, io ho 18 anni come voi Eravamo quattro amici al bar Che volevano cambiare il mondo Destinati a qualche cosa in più Che è una donna ed un impiego in banca Si parlava con profondità Eravamo quattro amici al bar Uno si è piegato in una banca Si può fare detto pure in tre Mentre gli altri se ne stanno a casa Eravamo quattro amici al bar Uno è andato con la donna al mare I più forti però siamo noi Qui non serve mica essere in tanti Sono il nostro io da solo ma E che hanno voglia di cambiare il mondo Oggi non è un mondo messa La terra è un rischio Oggi mai Forse non ci poterò mai Oggi non è un mondo messa Quindi come si può fare tutto il mondo